Non c'è nessun reatto come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. Non è che si dice che lui è stato con questi signori e li ha frequentati per commettere un qualsiasi reato. No, non c'è una pena, li ha solo frequentati. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. Marcello Dell'Utri, mediatore tra i boss Silvio Berlusconi, cinghia di trasmissione tra gli interessi della mafia e quelli dell'imprenditore milanese, diventato poi presidente del Consiglio. Secondo i giudici, Dell'Utri si sarebbe posto come specifico canale di collegamento tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Falsi come Giuda, però in pubblico baci a baci, che vi possano ammazzare tutti quanti. Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Noi crediamo di aver messo le persone giuste al posto giusto. Adesso permetteteci lunedì di poter iniziare ad insediare questi ministri presso ogni Ministero della Repubblica, andare al governo e cominciare veramente a cambiare le cose. Grazie.